La Toscana accelera la campagna vaccinale degli over 80, mettendo in campo due nuovi strumenti. Da domani gli ultraottantenni che non sono stati ancora contattati dal proprio medico di famiglia potranno prenotare il vaccino Pfizer sul portale regionale oppure chiamando il numero verde pronto vaccino. All'811 77 44, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17, risponderanno gli operatori che guideranno gli anziani nella prenotazione presso un hub vaccinale oppure a domicilio per chi fosse impossibilitato a muoversi. I medici in famiglia sono stati preziosi nell'assicurarci la quasi totalità delle vaccinazioni over 80. A questo punto se hanno i cittadini over 80 una prenotazione per la prossima settimana seguino quella e vadino dal loro medico di famiglia. Chi fra gli over 80 non ha mai avuto un contatto, una sollecitazione, una prenotazione, allora le consiglio o direttamente il portale per prenotarsi o questo numero verde per poter accedere ad avere un aiuto su come prenotarsi. L'obiettivo è arrivare a somministrare a tutti gli over 80 toscani la prima dose entro il 25 aprile. Ad oggi l'hanno già ricevuta in 240 mila. nei prossimi 10 giorni quindi ne saranno somministrate almeno altre 50 mila. Il numero verde pronto vaccino è pensato per aiutare i meno tecnologici o chi non ha famiglia e amici a prenotarsi facilmente. Rispondono dipendenti dell'ASL o ragazze e ragazzi del servizio civile in servizio presso le botteghe della salute o volontari della colonna mobile della regione toscana appositamente formati. la persona che chiama sarà chiesto nome cognome e indirizzo e sarà informata che entro un'ora riceverà una nuova chiamata e che deve farsi trovare munita di codice fiscale. Nella seconda chiamata verrà dato l'appuntamento. La corsa finale della Toscana sugli over 80 è possibile anche grazie all'ampia disponibilità delle dosi Pfizer. Una parte verrà utilizzata per gli estremamente fragili perché questa settimana non sono arrivate le forniture di Moderna.